Esercizi tecnici in relazione come variante a 120 in più chiusura ha senso tenere un volume basso come serie da due o tre ripetizioni. Qual volume in realtà può essere alto anche se tu fai serie da due o tre ripetizioni? Perché ti faccio questo esempio, se tu fai 100 serie da tre, adesso so che sto estremizzando il concetto, ma per farti capire proprio il concetto di volume. Se io faccio 100 serie da tre il volume è alto, cioè il volume dipende anche dal numero di serie e ripetizioni, non solo dalle ripetizioni. Le ripetizioni ci fanno capire anche l'intensità percepita con la quale lavoriamo e le delineiamo a seconda anche l'intensità di riferimento con la quale vogliamo lavorare. A senso di tutto, io ti consiglio di non andare troppo oltre questa reparenza, perché comunque il termo, più la fisura, il punto sotto di essere lungo sul dorso, sicuramente sarà tale per cui devi utilizzare altrimenti l'intensità più basso. Quindi serie da due o tre ripetizioni vanno bene ma sono da contestualizzare anche a seconda dell'intensità. Se tu fai 4 rep con 10 kg, fermo a 120 più chiusure, fai serie da tre, è troppo pesante. Serie da due o tre magari le puoi fare a corpo libero, le puoi fare con 5 kg, dipende.